Marco Landoni, lei è direttore Business Development and Digital Innovation di Edison, è un dirigentone, quindi in teoria dovrebbe essere impegnatissimo. Com'è Scusi allora che la vedo così rilassato? Devo dire che in questo periodo mi viene particolarmente facile, perché ho subito approfittato di un nuovo servizio di Edison, Edison Risolve, che fa una promessa chiara, tutti i servizi per la casa a portata di Edison. E che cos'è Scusi, una specie di maggiordomo? Sì, una specie di maggiordomo, una suite, una piattaforma di servizi tutti pensati, per aiutarci nelle faccende domestiche e per risolvere anche i piccoli guai della casa. Facciamo che io sia sballottato tra casa e lavoro, sono indietro su tutto, ho scadenze impellenti, ogni secondo perso è un affanno, a un certo punto mi cade il cappuccino sulla giacca e sul pantalone. Quindi oltre ad avere un riflusso di bile e incavolarmi come una biscia, secondo lei cosa faccio? Molto semplice, ci chiama, veniamo a ritirare i capi macchiati, li laviamo, li stiriamo e li riportiamo dove servono a lei. Banalmente si possono anche ritirare a casa e farli consegnare in ufficio. Ok, mettiamo che mi esplode il forno, che la casa si sporca tutta, che si rompe l'aspirapolvere, che parte anche il sifone del bagno, che si allaga. Beh, sarebbe il cliente perfetto per il risolvere, perché con un'unica prenotazione le mandiamo a casa, qualcuno che fa le pulizie, qualcuno che ripara l'elettrodomestico e anche qualcuno che ripara l'impianto. E mettiamo l'ipotesi che mi croli tutta la casa? Beh, sarebbe proprio Iella, però anche in questo caso abbiamo una risposta, mandiamo a casa un architetto per fare un preventivo per la ristrutturazione, e tra l'altro adesso con il 110% è anche conveniente. E nell'attesa abbiamo delle soluzioni salva spazio che la possono aiutare. Che sarebbero? Sì, abbiamo pensato a un armadio e a un box virtuale, di fatto veniamo a prendere a casa tua tutti gli oggetti che non usi o i vestiti che non usi e li conserviamo, li curiamo e te li riportiamo quando ti servono. Quindi Edison Resolve non è un maggiordomo? Cioè è meglio di un maggiordomo? Sì, sì, è meglio di un maggiordomo direi. E come vi è venuta l'idea? Ma molto semplice, siamo partiti un po' da quello che i clienti ci dicevano, poi se ci pensi nella vita di oggi la risorsa più scarsa che abbiamo è il tempo, e quindi abbiamo pensato a tutti quei servizi che ti potessero aiutare a liberare il tempo da dedicare poi ai nostri hobby, ai nostri cari e a quello che vogliamo fare. E tutto questo scusi quanto mi costa e soprattutto come lo attivo? Sì, basta fare un abbonamento, è molto semplice, costa meno di due euro al mese, tra l'altro primo anno lo offre Edison e poi si paga solo quello che si usa, cioè non c'è il rischio di dover pagare qualcosa in anticipo e poi non usarlo, come magari capita spesso con la palestra. Quindi ricapitolando, voi fornite servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Esatto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Poi d'altra parte, me l'ha detto anche lei che mi vede rilassato, quindi meglio di così. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.